Allora, nel 2011 Jeff Bezos, il capo di Amazon, aveva un patrimonio di 18 miliardi di dollari. Ha pagato zero tasse ed è riuscito a farsi riconoscere una detrazione da 4.000 dollari per i figli a carico. Un gigante. Oh, se non avete capito come funziona l'assegno unico per i figli, ve lo spiega lui, eh? Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo del Green Pass per viaggiare in Europa, delle critiche agli Open Day per le vaccinazioni e di un'inchiesta sui ricchi che pagano meno tasse di un impiegato. Il Parlamento europeo ha dato il via libera, adesso manca la firma sull'accordo finale ma insomma ormai possiamo dirlo in maniera quasi ufficiale. Dal 1 luglio sarà di nuovo possibile spostarsi liberamente in Europa per chi ha il Green Pass, cioè per chi si è vaccinato, per chi è guarito dal Covid e per chi ha fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Se questi criteri vi sono familiari è perché in effetti corrispondono a quelli già adottati in Italia per muoversi da o verso le regioni arancioni o rosse, che però da qualche settimana non ci sono più e quindi il Green Pass in Italia non lo stiamo usando. Ora la novità è che dal 1 luglio sarà possibile avere un codice QR, uno di quei quadrati che si inquadrano con la fotocamera del telefonino, e questo codice QR certificherà l'immunizzazione dal Covid e permetterà di viaggiare in tutta Europa. La durata è di 9 mesi dall'ultima dose di vaccino oppure di 6 mesi dalla guarigione dal Covid, mentre in caso di tampone, ripeto, il Green Pass vale solo 48 ore. Per noi italiani questo QR code sarà caricato su Immuni o su IO, le app più scaricate della pubblica amministrazione. Non è ancora chiarissimo come faranno i minori che non hanno l'identità elettronica, o comunque come farà chi non ha uno smartphone o non ha facilità di accedere a internet. Premesso che il codice QR potrà pure essere stampato su carta, per i minori pare che la possibilità di scaricare il codice sarà data ai genitori, mentre chi non è abbastanza digitalizzato dovrebbe avere la possibilità di farsi scaricare e stampare il QR code dal medico di famiglia o in farmacia tramite il sistema della tessera sanitaria. Quindi vacanze libere per chi è vaccinato. E a proposito di vacanze, oggi il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, ha chiarito che se vogliono le regioni possono vaccinare i turisti che vengono da un altro posto. Figliuolo ha detto che il sistema di comunicazione dei dati delle vaccinazioni tra regioni esiste già e che le dosi possono essere bilanciate in modo da fornire le quantità richieste ai luoghi di villeggiatura. Ma Figliuolo ha anche detto chiaramente che secondo lui questa storia di vaccinarsi al mare è più uno spot che una necessità. Queste sono proprio parole sue. Ma ha anche detto che assecondare questa esigenza è comunque importante per chi ne ha davvero bisogno, per esempio i lavoratori stagionali che passano tutta l'estate in un'altra regione. E il Green Pass e in generale le maggiori libertà legate all'immunizzazione sono evidentemente un grande incentivo a vaccinarsi. Lo dimostra il grande successo dei cosiddetti Open Day riservati soprattutto ai giovani, che sono diventati una consuetudine in parecchie regioni. Però proprio queste iniziative adesso stanno sollevando perplessità sempre più frequenti nella comunità scientifica. Perché gli Open Day sono legati alla sovrabbondanza di dosi di due vaccini, AstraZeneca e Johnson & Johnson, che a causa delle ormai famose, per quanto rarissime, trombosi potenzialmente legate alla somministrazione, hanno cominciato a essere rifiutati da parecchia gente. E quindi alcune regioni, per non sprecare queste dosi, di fatto hanno permesso ai cittadini di saltare la fila purché accettassero di farsi fare AstraZeneca o Johnson & Johnson. Questa è una strategia che è sembrata molto intelligente, se non che adesso alcuni scienziati cominciano a far notare che anche se il legame tra vaccini e trombosi non è stato definitivamente dimostrato e comunque è statisticamente irrilevante, come si dice, sotto una certa età non vale la pena rischiare, perché comunque il rischio sarebbe maggiore di quello che si correrebbe ammalandosi di Covid. Con le medicine in generale funziona così, no? Un medicinale senza effetti collaterali non esiste, quindi se il danno che ti fa la malattia è statisticamente peggiore di quello della medicina, conviene prenderti la medicina, altrimenti no. Ora col Covid sappiamo che i danni gravi sono frequenti negli anziani, possibili negli adulti, rarissimi nei giovani. Vaccinare i giovani però è importante perché anche se non si ammalano gravemente possono trasmettere il virus agli anziani. Ma visto che un vaccino efficace e approvato per i ragazzi addirittura fino a 12 anni esiste, secondo alcuni scienziati offrire AstraZeneca ai quarantenni, ai trentenni o ai ventenni non è saggio. La preoccupazione riguarda in particolare le donne tra i 30 e i 50 anni, che sembrano le più colpite, almeno secondo i dati che abbiamo finora, da queste rare trombosi. Ricordo che in Italia AstraZeneca e Johnson & Johnson sono approvati per i maggiori di 16 anni, ma consigliati solo per le persone più anziane di 60 anni. Per questo chi si vaccina, diciamo così, regolarmente, cioè non approfittando degli open day ma aspettando l'apertura delle vaccinazioni per la sua fascia d'età, se ha meno di 60 anni viene trattato con Pfizer o Moderna, non con AstraZeneca o Johnson & Johnson. E tra i vari effetti collaterali del Covid c'è stato senz'altro l'aumento delle diseguaglianze. Questo è un effetto certo e documentato. La distanza tra i ricchissimi e i più poveri nell'ultimo anno è aumentata a dismisura. E allora sta facendo sensazione l'inchiesta di un famoso sito di giornalismo investigativo americano che si chiama Propubblica, che ha messo le mani sui documenti fiscali di alcuni tra gli uomini più ricchi del mondo, tra cui Jeff Bezos, il capo di Amazon, che in effetti è l'uomo più ricco del mondo in assoluto, ma anche Elon Musk di Tesla o i finanzieri Warren Buffett e George Soros. Propubblica ha scoperto che queste persone pagano pochissime tasse che in alcuni anni non ne hanno pagate affatto. E attenzione, non è che siano degli evasori fiscali. È tutto fatto perfettamente secondo la legge. Questa cosa delle tasse per i super ricchi sta diventando un tema particolarmente sentito, ne abbiamo parlato anche qui due giorni fa a proposito della tassa sulle multinazionali. E c'entrerà appunto l'aumento delle diseguaglianze legato al covid. Comunque conviene spiegarla bene. In generale nel mondo quello che si tassa non è il patrimonio, cioè i beni o i soldi che possiedo in questo momento, ma il reddito, cioè per esempio i soldi che ho guadagnato nell'ultimo anno. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Se sono un lavoratore dipendente e guadagno 30.000 euro l'anno, grosso modo un terzo di questi soldi alla fine dell'anno se ne vanno in tasse. Diciamo che pago 10.000 euro di tasse sul mio reddito. Ma se ho fondato un'azienda le cui azioni valevano un milione di euro all'inizio dell'anno e ne valgono due milioni alla fine dell'anno, la mia ricchezza è raddoppiata. Ma se non vendo queste azioni, se le lascio lì, in effetti non produco reddito. Quindi pago zero tasse. Questa è la teoria. Poi c'è la pratica, perché Bezos e Elon Musk conducono uno stile di vita all'altezza della loro ricchezza. Quindi evidentemente dai loro patrimoni ricavano un reddito con cui si pagano quello che gli va. Secondo ProPubblica spesso lo fanno con un trucchetto noto tra gli economisti e soprattutto tra i commercialisti. Si fanno prestare tutti i soldi che gli servono dalle banche, che non hanno nessun problema a finanziare l'uomo più ricco del mondo evidentemente, con il paradosso che gli interessi che questi ricchi pagano per restituire i prestiti alle banche possono dedurli dal poco reddito che dichiarano. Come noi deduciamo gli interessi sul mutuo dalla dichiarazione dei redditi? Insomma, agli occhi degli esperti, lo scoop di ProPubblica non rivela niente di particolarmente sorprendente. Il governo degli Stati Uniti infatti non ha fatto una piega rispetto a queste rivelazioni, anzi si è preoccupato solo del fatto che informazioni riservate sulle tasse di cittadini americane siano arrivate e media, e ha chiesto all'FBI di indagare. Poi c'è anche da dire che, anche pagando una percentuale ridicola di tasse, uno come Bezos versa al fisco cifre astronomiche. Secondo ProPubblica, tra il 2006 e il 2018 la sua ricchezza è aumentata di 127 miliardi di dollari. Lui ha dichiarato un reddito di soli 6 miliardi e mezzo, ma alla fine comunque ha pagato un miliardo e mezzo di tasse, che però sono poco più dell'1% soltanto dell'aumento del suo patrimonio. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nel suo programma l'idea di aumentare le tasse sui redditi più alti e sulle rendite finanziarie. Ma secondo ProPubblica è evidente che con le attuali regole agli uomini più ricchi degli Stati Uniti cambierebbe davvero poco. E quindi, anche dopo queste rivelazioni, si rafforza il fronte di chi chiede di tassare non più solo i redditi, ma anche le ricchezze, almeno quelle al di sopra di una certa somma. Insomma, di introdurre quella che qui in Italia ne avrete certo sentito parlare qualche volta, chiamiamo patrimoniale. Sono le 19.25 di mercoledì 9 giugno 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante Segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì. È pronto a cena, ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati, appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram e se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!